E Presidente, dobbiamo dire che si parla di turismo già da adesso, quindi vuol dire che si ha voglia di mettere in campo un progetto che possa dare delle risposte positive? Sì, proviamo proprio a fare questo, a muoverci per tempo, a non operare sempre in emergenza, ma a pianificare delle azioni mirate nel comparto turistico e a farlo insieme agli operatori che sono i veri protagonisti del comparto. Ascoltiamo un momento di confronto, di incontro, ascoltiamo le esigenze e i bisogni dei nostri operatori e proviamo subito dopo ad incontrare tutti i sindaci per capire cosa bisogna fare per cercare di superare le inefficienze, per arrivare per tempo alla stagione estiva ben strutturati, cercando di offrire il meglio che il nostro territorio può dare. Lei ha ragione, ma ci sono più criticità o più proposte? Beh, è nella cultura nostra essere critici, però è chiaro che noi lo sforzo che dobbiamo fare è fare più proposte, noi dobbiamo essere più propositivi, dobbiamo amare la nostra terra, iniziare a vedere quanto di buono offre la nostra terra e sul positivo lavorare e cercare di promuovere e valorizzare quanto di buono abbiamo. Questo è il nostro vero compito, quindi trasformare quella che è una minaccia in un'opportunità, quello che è un punto di debolezza in un punto di forza. Bisogna organizzare meglio i servizi? Sì, è chiaro che in un territorio variegato, qualificato come il nostro, che ha un deficit infrastrutturale, certamente bisogna lavorare per migliorare i servizi, ma quei servizi che servono ad accorciare, seppur le brevi distanze che ci sono tra l'entoterra e la costa, in maniera tale da poter offrire, diciamo così, ai nostri turisti nel nostro territorio, un programma estivo, una vacanza, diciamo serena, una vacanza che gli possa consentire in pochissimo tempo di muoversi tra la straordinaria costa che noi abbiamo allo straordinario entoterra perché bisogna evidenziare che nei nostri comuni esistono i borghi più belli d'Italia. Il turismo può essere il volano della nostra economia? Il turismo deve essere il volano della nostra economia, insieme ovviamente ad altri comparti economici importanti, come l'agricoltura, la pesca, ma il turismo certamente deve essere il volano e a noi il compito come provincia è di provare a mettere in campo tutte le azioni di coordinamento per avvicinare il comune e il territorio alla legge del Calabria.